Grazie a tutti Oggi abbiamo con noi il consigliere regionale Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, buonasera. Salve, buonasera a tutti voi. Allora, Donzelli arriva naturalmente dalla campagna e poi insomma dal voto del regionale che in qualche modo hanno premiato il suo partito legato alla Lega e nella specifica la sua persona, insomma con un buon risultato di preferenza ne parleremo tra poco, però prima facciamo anche un breve acceno su quello che invece è stato il voto di ieri, quello dei ballottaggi che di fatto, come ha detto lo stesso segretario del PD Toscano, Parrini, è stata un po' una debacle per il Partito Democratico che perde Arezzo e così come vince il centrodestra anche a Pietrasanta e Viareggio e quindi tornano in qualche modo all'opposizione. Proprio su questo, non tanto sul suo partito specifico ma sul debacle del Partito Democratico, quando Parrini dice bisogna fare un mea culpa, oggi mastichiamo Amaro, insomma rispetto a un paio di settimane fa che si vuole dare la vittoria a decretare, la vittoria del Partito Democratico decretata dagli stessi membri del partito, oggi è una situazione diversa. Sì, ma io devo essere sincera anche alle regionali, la vittoria del Partito Democratico è stata una vittoria nel risultato, ma se si guarda fondamentalmente il rosso è stato votato da un 25% dei toscani, perché hanno votato, ha ottenuto meno del 50% e ha votato meno del 50%. Quello che è mancato alle regionali, cioè una coalizione unita, un centrodestra forte con un candidato unico e con una campagna elettorale incisiva e determinata fin dall'inizio in regione invece c'è stato sui territori dove abbiamo vinto. Probabilmente se il centrodestra non avesse fatto tanti errori, alcuni forse anche voluti da Verdini e altri, tant'è vero che stanno passando con Renzi. In passato forse avremmo potuto vincere e oggi festeggiare anche una regione diversa e più libera, anche se in Toscana ci sono delle aree dove oggettivamente i toscani sono un po' più affezionati al voto per partito preso, però invece questi risultati dimostrano che il vento in poppa Renzi non ce l'ha più, questo è un dato e fatto, perché se anche nella città della Boschi, nella regione di Renzi il PD perde i ballottaggi e li vince il centrodestra in modo così abbastanza chiaro, determinato e forte, è evidente che la nazione è stanca e non si riconosce in questo governo che oltretutto non ha mai votato, perché io ricordo che l'ultimo Presidente del Consiglio scelto dagli italiani è una vita fa Berlusconi e con tutti i limiti e i difetti del mondo e nessuno, almeno io no, io non penso che sia giusto pensare di portare le lancette indietro il tempo, ma poi dopo abbiamo avuto Monti che è stato scelto dalla Merkel con Napolitano, poi si è candidato Bersani che ha pareggiato, poi quindi è stato Letta che è stato scelto dalla Merkel e Napolitano, poi è arrivato Renzi che è stato scelto dalla Merkel e Napolitano, ora noi vorremmo un Presidente del Consiglio che fosse scelto dagli italiani, ecco tutto qua. Senta, tra i voti poi in tutta Italia spiccano naturalmente un po' quelli toscani, proprio perché come ricordava lei è un po' il feudo renziano in qualche modo, la sua regione d'origine e quindi Arezzo, però poi c'è anche il tema di Venezia che era visto come l'ultimo baluardo di quella regione così martoriata dal voto, diciamo tra virgolette, per quanto riguarda il Partito Democratico e la candidata Moretti e però alla fine si è persa anche quello. Eh sì, certo, ma perché comunque al nord Renzi che doveva essere il Partito Democratico quello più vicino alle categorie produttive, più smart, più moderno, più giovane, quindi essere il Partito Democratico e finalmente sfondava il nord e poi alla prova dei fatti non è che scherzano, no, cioè che c'è un'impresa guarda i risultati, non guarda le slide, guarda l'economia reale, guarda il lavoro, guarda i problemi e la sicurezza, non guarda il gelato che si mangia a Palazzo Chigi o la sceneggiata, cioè guarda le cose concrete, chi è nel mondo produttivo e di cose concrete questo governo non ha portato a casa niente. Parrini dice anche che grossa colpa in questi ballottaggi l'ha avuta anche il discorso nazionale e quindi in particolare il discorso di mafia capitale e la gestione dei flussi migratori di questo periodo e hanno influito. Certo è vero che chi governa sbaglia, questo si può dire, insomma, e forse paga anche il fatto che adesso governando il Partito Democratico di Renzi le scelte che in qualche modo fa sicuramente non possono crescere a tutti. Credo che non ci siano alibi nel senso che almeno nella nostra regione il Partito Democratico governava, perché ora Rezzo e Pietrasanta non li governa più nemmeno Viareggio, ma governava i comuni, le province, la regione, il governo, il Presidente della Repubblica, dovunque Sicilia era colpa loro, cioè non è che possono dire no, ma non noi, la colpa è, no, sempre loro erano e quindi i cittadini stanchi hanno iniziato a cambiare pagina. Poi è evidente che chi fa rischia sempre di essere criticato, il problema Renzi è che non fa, cioè continua, lancia slogan, lancia la buona scuola e poi si arena perché ovviamente non riesce a trovare un accordo con chi la deve realizzare. Diminuiremo le tasse e poi le aumenta. Il piano B sull'immigrazione, nessuno capisce qual è questo piano B sull'immigrazione, no, o l'Europa fa come dice noi o faremo il piano B. La Merkel è lì che ride perché dice tanto poi verrà da me con il cappello in mano. Intanto proprio nella giornata di oggi ci sono i rispingimenti ai confini della Francia, in realtà già da un paio di giorni ci sono persone stazioni lì, ne parliamo tra pochissimo, restiamo però un attimo sul tema politico perché volevo parlare anche delle regionali, insomma della Toscana in modo particolare. Allora intanto partiamo dal risultato del suo partito Fratelli d'Italia, il 3,85%, poi nell'alleanza con la Lega Claudio Borghi candidato ottiene il 20% circa, quindi un ottimo risultato per quanto riguarda il candidato dell'alleanza. Voi siete, vi è piaciuto il risultato o lo considerate un po' al di sotto dell'aspettativa. Noi è chiaro, tutte e due, noi volevamo vincere, quindi comunque anche il risultato della coalizione siamo soddisfatti perché ovviamente il 20% è un buon risultato, un ottimo risultato, ma avremmo voluto avere il 51%, quindi comunque vogliamo fare di più, uguale per Fratelli d'Italia. Siamo comunque cresciuti notevolmente rispetto alle scorse europee, quindi nel giro di 10 mesi siamo cresciuti in modo importante, in alcune città abbiamo ottenuto, penso la provincia di Prato e Pistoia siamo oltre il 5%, il 6%, quindi comunque con una crescita importante e poi ovviamente vorremmo sempre di più e quindi ci impegneremo a fare anche noi risultati molto maggiori per crescere insieme alla Lega e magari anche se vorranno finalmente provare a vincere anche altri alleati di centro-destra come Forza Italia, per provare tutti insieme a vincere questa regione e darle un governo, una possibilità di governo diversa da quello che ha sempre visto. Nello specifico entra un consigliere in regione toscana per quanto riguarda i vostri partiti da lei perché guadagna 1973 preferenze contro le 1080 circa di Marcheschi che si attesta il secondo poi rispetto agli altri un grosso distacco, i fiorentini e non solo i fiorentini l'hanno premiata in qualche modo. Sì certo, senza dubbio, questo... Si fa onore in qualche modo, li fa piacere. Sì, non voglio ora fare lo smargiasso perché poi dopo no, finite le elezioni, chi viene eletto gli piace sempre bearsi. Io sinceramente non ho fatto promesse in campagna elettorale, quello che dicevo via via che incontro le persone, dicevo giudicatemi per quello che ho fatto e così hanno fatto e quindi sono soddisfatto. Vuol dire che negli anni precedenti tanto lavoro, tanto sforzo è stato riconosciuto, quindi ben venga. Dopodiché non ci si deve mai accontentare perché ovviamente io al posto di 1973 voti vorrei averne 190 mila a Firenze e vorrei nella provincia di Firenze arrivare a essere per Fratelli Italia il primo partito. È chiaro e qui ora arriviamo un po' a un tema centrale che riguarda il suo partito e non solo, proprio anche l'area di centro-destra perché lo vediamo nei ballottaggi quando poi alla fine si unisce come ricordava lei e la destra in generale come area ampia politica funziona e guadagna consensi. Però le chiedo, lei in Consiglio regionale in qualche modo dovrà portare avanti delle battaglie e lo farà presumibilmente insieme a qualcun altro, insieme a qualche alleato, proprio il rapporto tra Fratelli Italia e la Lega, lei lo vede in un futuro possibile di un unico partito, comunque un unico polo? Un unico partito, finché la Lega è così, no, lo escludo. La Lega ricordo che ha nel proprio statuto, all'articolo 1, la secessione dell'Italia che per noi è una cosa inconcepibile. Continua comunque a chiamarsi Lega Nord e Padania, oggettivamente io non mi sento padano, mi sento toscano e prima di tutto mi sento italiano. Quindi ci sono ovviamente, finché la Lega, finché è Lega non possiamo fare un unico partito. Si può fare un'alleanza forte perché quello che dice Salvini sui temi dell'immigrazione, delle tasse, ci riconosciamo, riconosciamo, poi lui ha i voti, ci riconosciamo, è buone cose di quello che dice come programma nazionale, quindi potremmo fare un'alleanza forte a livello nazionale per provare a vincere in Italia, come l'abbiamo fatta in Toscana per provare a vincere in Toscana. Un unico partito? No, perché abbiamo delle peculiarità diverse, noi comunque proviamo anche a impostare anche ragionamenti un attimo che vanno oltre la felpe e lo slogan e comunque ci teniamo al concetto, per noi non esistono le Italie, ma esiste un'Italia unica, quindi comunque abbiamo anche dei punti di vista diversi, su alcuni temi divergenti. Certo per noi è importante allearci, se ci si alleava con la Lega di Bossi che era molto più secessionista di questo, molto più impresentabile, figuriamoci se non ci possiamo alleare con la Lega e Salvini che è in sintonia con quello che ha sempre detto la destra e su temi importanti in Italia, quindi sicuramente per noi è un alleato importante, ma per ora finché la Lega è così non c'è motivo di fare un unico partito, c'è motivo di fare alleanze sempre più forti, poi se le leggi elettorali a livello nazionale spingeranno a fare delle liste uniche, potremmo fare delle liste uniche ma tenendo distinti i partiti con le loro storie, le loro divergenze. A me piace quando sento parlare Giorgia Meloni in televisione, piace perché magari è meno pugno nello stomaco di Salvini, però imposta un ragionamento, c'è dietro anche un retroterra culturale e valoriale in cui ha sempre creduto sulla destra e negli ultimi 50 anni in Italia. Secondo lei Borghi dovrebbe essere il portavoce dell'opposizione? Sì, certo, gliel'ho chiesto personalmente, me l'auguro e mi impegnerò. Perché con i 5 Stelle su questo c'è un po' un dibattito? C'è un dibattito, i 5 Stelle gli era stata offerta la possibilità di tenere unita l'opposizione pur essendo loro influenti nella scelta del portavoce dell'opposizione perché i loro numeri non sono necessari per individuare il portavoce dell'opposizione, noi gli abbiamo offerto insieme come coalizione la possibilità di unire le opposizioni per provare a essere più incisivi nel combattere i rossi, il Movimento 5 Stelle è il Movimento dei No, è il Movimento dei 5 No e quindi hanno detto no perché i leghisti sono leghisti e allora loro vogliono fare i pulisti dei 5 Stelle e così avranno fatto un ennesimo regalo a Rossi perché avrà un'opposizione divisa, ma Borghi faremo di tutto per portarlo, comunque abbiamo i numeri quindi per portarlo a fare il portavoce dell'opposizione. Senta, questo rapporto tra Fratelli d'Italia e la Lega la riguarda anche in qualche modo in qualche commento che è apparso su un duro scontro e lei ha avuto un altro notabile diciamo così della vostra area che è Alemanno, naturalmente lo sappiamo nei nomi caldi nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale, c'è stato un dibattito tra voi attraverso i social network anche acceso, qualcuno poi proprio attaccando lei in particolare diceva che insomma alla fine fate l'alleanza con la Lega Nord, insomma diciamo vi criticava proprio sulle vostre ultime vicinanze con la Lega, questo dibattito è stato forte però lei insomma diciamo non si è, non si è, come dire, non si è trattemuto dal commentare insomma quello è stato anche il passato e quello che si sta facendo Alemanno insomma in questo periodo. Beh sì certo nel senso io sono molto duro con la sinistra e quando vedo presentato anche una legge che dovrò depositare appena saremo insediati, una legge sul rapporto tra Coppa e politica, sono molto duro sulle questioni della moralità nei confronti della sinistra, ho fatto denunce fortissime in aula perché non presento esposte in procura ma denunce in aula fortissime che hanno portato anche a inchiesta della magistratura su questioni di trasparenza, di moralità e di modalità di spesa del denaro pubblico, se lo pretendo a sinistra lo pretendo il doppio a destra ovviamente, quindi io credo che... Lei diceva sostanzialmente che è successo tutto sotto i vostri occhi... No, allora attenzione, non tutto, perché la vicenda di mafia capitale nasce a sinistra e prosegue a sinistra, c'è stata nel mezzo la parentesi di Alemanno, io personalmente credo anche che sia innocente Alemanno, però comunque la sua parentesi non è riuscita a interrompere la vicenda della corruzione del malaffare a Roma, quindi secondo me non è sufficiente la sua capacità di interrompere il modo di fare interessi della sinistra con le cooperative, con la criminalità, col malcostume, non è riuscita a interromperlo quando era sindaco. Per me quindi la destra che si propone come alternativa alla sinistra deve proporsi su uomini nuovi, diversi, che invece possano un domani all'onere della prova dimostrare di riuscire a interrompere questo flusso di malavita e di scorrettezza amministrativa. Io credo che Alemanno non abbia delle colpe penali, sarà la magistratura a stabilirlo, ma io ho fiducia quando lui dice che è innocente e ne uscirà a testa alta, ma comunque quando lui era sindaco di Roma la cooperativa di Buzzi continuava a lavorare sugli emigrati e sui rom. Io se un domani dovessi vincere l'elezione in Toscana interromperei per esempio i fondi per il forteto, perché per una vita sto facendo la battaglia in Regione contro il forteto, se un domani la Regione continua a finanziare il forteto, se un domani io dovessi vincere in Regione Toscana la prima cosa che farebbe interrompere i finanziamenti al forteto o anche alcuni appalti con le coppe rosse che sono poco trasparenti. È questione di opportunità politica. Secondo me Alemanno quando è stata messa la prova dei fatti non ha funzionato e quindi io chiedo nella destra un rinnovamento, tant'è vero comunque Alemanno stesso, anche se poi fa le polemiche su Facebook, si è autosospeso a Fratelli Italia perché si è reso conto che è la situazione sua personale incompatibile con quelle che sono le idee, i valori e i programmi dei Fratelli d'Italia. Senta ma visto che almeno chiudiamo questa prima parte, restando sul tema politico poi entriamo anche sui temi specifici, tra l'altro anche quello della legge proprio che ne parleremo subito dopo e lei intende proporre per la Regione Toscana il rapporto con le cooperative ma anche con i finanziatori poi delle campagne elettorali. Sul tema politico invece nazionale le chiedo questo, secondo lei visto che insomma il governo Alem si sta andando avanti, in qualche modo governa, in realtà ci sono un paio di spartiacque importanti adesso come ricordava quello della scuola e non soltanto la riforma istituzionale, le chiedo, secondo lei visto che se ne parla tantissimo, la Lega Nord di Matteo Salvini potrebbe essere un leader di un'opposizione che magari in un futuro futuribile ma nemmeno così lontano possa riunire l'area di destra per combattere una volta per tutte, insomma per essere il vero nemico del PD e del Partito Democratico. Io preferirei Giorgia Meloni, dopodiché quello che io voglio e mi batterò per questo è che il centro-destra scelga in modo democratico e partecipato dal basso il proprio leader. Quando si intende questo si parla ai primari del centro-destra, non è che per forza bisogna scopiazzare il PD, cioè le primarie quando le fanno negli Stati Uniti sono una cosa seria, le fanno sequenziali che durano mesi, che coinvolgono i programmi, poi alleanze, situazioni, quindi io mi auguro di creare un percorso di primarie vere in Italia che non sono mai state fatte vere per scegliere il futuro leader del centro-destra. Se vincerà Salvini, viva Salvini, io mi batterò per farle vincere a Giorgia Meloni perché secondo me è un leader più adatto, dopodiché se le vincerà invece un'altra persona ancora che non è nemmeno né la Meloni né Salvini perché quando poi si aprono le competizioni può accadere questo e questo è il bello delle competizioni al basso, porteremo tutti acqua a chi le vincerà. Questo può essere l'unico modo per riunire tutto il centro-destra e ripartire in modo vincente. Anche i moderati? Certo, anche se secondo me i moderati è una definizione di una categoria che non esiste più perché prima i moderati erano... Però era quella categoria a cui guardava Renzi in qualche modo. Sì, ma perché, qual è l'errore che si fa? Perché prima in Italia i moderati, che erano la maggioranza degli italiani, erano coloro che stavano bene e quindi volevano conservare lo status quo. Quella classe sociale lì che era quella dei professionisti, piccoli e medi imprenditori, oggi non sta bene, oggi vede lo Stato come un nemico perché la fossa con le tasse, perché non crea burocrazia, spende male i soldi, crea spesa improduttiva e quella classe non è più la classe agiata che vuole rimanere così com'è, la classe che vuole una rivincita, quindi non è più moderata. Quella non è la classe sociale che vuole mantenere lo status quo, è la classe sociale che vuole una vera e propria rivoluzione in Italia. Quindi essere moderati oggi vuol dire mantenere lo status quo. Chi è che vorrebbe mantenere lo status quo? Forse solo gli immigrati che arrivano e hanno le porte spalancate, il rom, ma certamente non gli italiani è chi ha difficoltà per colpa delle tasse ad arrivare a tenere in piedi un'azienda, arrivare alla fine del mese o non al lavoro. Questi non possono essere moderati. Ultima domanda per cui riguarda un partito a voi vicino, la di Forza Italia, perché da questo si può dire, lasciando perdere i ballottaggi, dove comunque hanno guadagnato, nelle regionali le percentuali sono calate molto, anche perché nei ballottaggi c'era spesso volentieri l'appoggio della Lega, insomma ha ottenuto tanto, andando poi singolarmente invece nelle regionali il crollo è stato molto ingente. Secondo lei anche lì c'è bisogno di una rivoluzione all'interno del partito? Già si dice che in Toscana tra verdiniani non... Faranno loro, cioè oggettivamente non mi interessa, non è un problema che mi riguarda e non mi ha mai riguardato, perché al massimo abbiamo partecipato noi nel PDL quando era un partito più ampio, io vengo d'Alleanza Nazionale, non ho mai fatto parte di Forza Italia ed è un percorso che non mi riguarda. Certo, c'è un dato di fatto, la Forza Italia di Urbani, Pera, dei grandi professori e dell'inizio di Berlusconi e dell'evoluzione liberale è un'altra cosa rispetto a quella di Verdini e la Pascale, quindi oggettivamente è una parabola che è arrivata a un suo percorso, quindi io non facevo parte e non mi sentivo, anche se ero alleato, non mi sentivo parte della Forza Italia e dei grandi professori, non mi sento parte nemmeno quella di Verdini e della Pascale, quindi lascio a loro i loro percorsi, le loro strategie, Berlusconi è un uomo che ha dato tanto alla politica, tanto all'Italia, ha permesso la costruzione di un centro-destra, ha fermato nel 94 e la sinistra che non era la sinistra di oggi, era una sinistra secondo me in quel tempo quella di Occhetto, pericolosa anche per l'Italia, quindi comunque ha fatto tante cose, ormai dovrebbe un po' come grandi campioni accettare di stare un po' a bordo campo e aiutare qualcuno a farsi avanti, se lo capirà ci sarà un futuro anche per il suo partito, se non lo capirà il futuro del suo partito sarà quello della sua cerchia stretta, ma è un problema che comunque non mi riguarda, il futuro per me sono Meloni e Salvini. Va bene, chiarissimo su questo, abbiamo chiesto naturalmente un commento dal punto di vista analitico della politica, nella seconda parte restate con noi perché parleremo poi anche dei temi propri che insomma riguardano anche i cinque anni prossimi di governo per quanto riguarda il PD e anche naturalmente di opposizione per quanto riguarda Fratelli d'Italia e la Lega Nord e tutte le altre opposizioni, restate con noi, tra cinque minuti torniamo in studio. Grazie 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 a tutti. 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 e a tutti.